Contro il Torino c'è il Milan, che dire di questo Milan, sembra una nuova squadra, rinata. Come prima cosa io saluto la mia lady che mi accompagnerà dalla postazione multimediale, Veronica Bagnoli. Ciao Veronica! Che bello di averti qua, sono felicitissima. Grazie, un piacere. Questa sera finalmente, tutta il femminile. Potere alle donne abbiamo detto. Potere alle donne. Ascolta, ma lo diciamo ai telespettatori? Sì, è una giornata piena di annunci. Allora, questa intanto è la mia penultima puntata con le tette naturali. Quindi mi vedrete a breve con due tette enormi, bellissime, fighissime. E in più, tutti, 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 pagando come in chiesa all'offertorio. No, vabbè, scherzi a parte, la notizia più notizia di tutti non è quella delle tette, ma che sono tornata single. Quindi, uccelli, venite! A posto, a posto, a posto! Con questo abbiamo detto tutto. Abbiamo già detto tutto. Io comincerei...